Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. In questo tutorial andremo a realizzare insieme un cappello fatto all'uncinetto. Io l'ho realizzato con due tipi di lane, una lana semplice bianca, eccola, abbinata con quest'altro tipo di lana che è pellicciosa, che è veramente sottile, quindi bisogna lavorarla con un altro tipo di filato. Io ho scelto di abbinarla con una lana bianca, appunto, semplice. Partiremo dalla fascia e io la fascia l'ho lavorata con l'uncinetto quattro e mezzo. Una volta che abbiamo lavorato la nostra fascia che ci copre la circonferenza della nostra testa, andremo a lavorare il corpo del cappello e l'ho lavorato con l'uncinetto numero cinque. Alterneremo tre giri di punto di mezze maglie alte con un giro di punto a rete. Poi, una volta che siamo arrivati alla lunghezza che ci serve, andremo a fare la chiusura per poi mettere il pompon sopra. Io ho la fascia di 55 cm, poi sono andata avanti con il corpo del cappello e vi dico di quanti centimetri è. È di 22 cm. L'ho preferito un po' lungo, però potete fare anche meno giri. Quindi, detto questo, possiamo passare al tutorial. Allora, vi faccio vedere un attimo su un campioncino e dobbiamo avviare, ecco qua. Allora, dobbiamo avviare 8 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 catenelle. Poi facciamo più 2 catenelle, quindi saltiamo 3 catenelle di base, quindi 1, 2, 3, entro nella quarta catenella e lavoro la seconda mezza maglia alta. Poi vado nella maglia successiva, lavoro la terza mezza maglia alta, poi la quarta, la quinta, la sesta, settima e l'ottava maglia alta. Io ora ve la sto facendo vedere solo con questa lana bianca, perché andando a lavorare tutte e due messe insieme non si vedono bene i punti. Quindi, una volta che abbiamo fatto le nostre 8 mezzi maglie alte, cosa facciamo? Facciamo 2 catenelle, che sono la nostra prima mezza maglia alta, lavoriamo la seconda mezza maglia alta, però prendendo solo l'asola esterna. la quarta, la quinta, la quinta, la sesta, lavoriamo la settima e poi l'ottava, che prenderemo, entreremo nella terza catenella. Ecco qui. Ora dobbiamo andare sempre avanti in questo modo, quindi due catenelle che sono di separazione, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare delle mezze maglie alte prendendo solo l'asola esterna. Quindi dobbiamo andare, dobbiamo fare dei giri di andata e ritorno in questo modo, finché non arriviamo alla circonferenza che ci serve. Io ho fatto 8 catenelle, però si possono fare anche di più, come si possono fare anche magari di meno. Invece di avviare 8 catenelle, ne potete fare 6, 5. Questo dipende in base dalla grandezza che volete della fascia. Vedete? Quindi dobbiamo andare avanti in questo modo, in questi giri, per tutta la circonferenza. Come già vi ho detto nell'anteprima del video, io ho avviato una fascia che era di una circonferenza di 55 cm. Quindi andiamo avanti in questo modo e poi ci rivediamo. Allora, una volta che saremo arrivati alla circonferenza che ci serve, calcolate che io sto andando a fare un campioncino. Quindi questo sarà il risultato finale della nostra fascia. Quindi ci chiuderemo in questo modo, vedete? In cerchio, diciamo, e qui all'interno entrerà la nostra testa. Quindi semplicemente come facciamo? Andiamo a fare delle maglie bassissime per chiuderci con il lavoro. Quindi entro nella prima maglia, ecco qua, faccio un punto bassissimo, mi alzo di una catenella e vado a lavorare tutte le maglie bassissime. Quindi in totale sono otto punti. Quindi otto punti bassissimi. Quindi entro nella prima maglia, poi entro nella maglia successiva e mi vado a chiudere con un punto bassissimo. Nella maglia successiva, quindi entro in questa maglia, poi entro nella maglia retro, vedete così e mi chiudo con un punto bassissimo. Questo lo dobbiamo fare fino a chiudere tutta la striscia di otto punti bassissimi. Una volta che avremo chiuso con delle maglie bassissime, questo sarà il risultato all'esterno e questo sarà il risultato all'interno. Ora andiamo a lavorare tre giri di mezze maglie alte. Quindi cosa facciamo? Avviamo il lavoro facendo due catenelle e ora andiamo a fare il giro di mezze maglie alte. Quindi entro nella maglia successiva e lavoro una mezza maglia alta. Nella maglia successiva mezza maglia alta. In questo modo. Dobbiamo lavorare tre giri di mezze maglie alte. In questo modo. Una volta che avremo terminato il primo giro di mezze maglie alte, da questo giro in poi sarà semplice perché andremo a lavorare tutte le maglie come si presentano. Quindi dobbiamo fare due catenelle che sulla nostra prima mezza maglia alta e semplicemente entro nel punto successivo e lavoro una mezza maglia alta. Sul punto successivo una mezza maglia alta, punto successivo una mezza maglia alta. Questo lavoro lo dobbiamo fare per un altro giro. Quindi il primo l'abbiamo fatto, questo è il secondo e poi andremo a lavorare il terzo e poi ci rivediamo. Una volta che avremo terminato i tre giri a mezze maglie alte, andiamo a lavorare il giro di punto a rete. Quindi semplicemente avviamo il lavoro facendo tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta più una che è di separazione. Filo sull'uncinetto, salto un punto di base, nella maglia successiva lavoro una maglia alta. Facciamo una catenella, saltiamo una maglia di base, nella successiva andiamo a lavorare una maglia alta. Una catenella che è di separazione, saltiamo una maglia di base, nella maglia successiva andiamo a lavorare una maglia alta. Una catenella, saltiamo una maglia di base e nella maglia successiva andiamo a lavorare una maglia alta. Questo lo facciamo fino al termine del giro. Ha terminato il giro, cosa faremo? Andremo a lavorare di nuovo i tre giri di mezze maglie alte. Il primo giro lo lavoriamo in questo modo, quindi ci alziamo di due catenelle che sono la nostra prima mezza maglia alta. Nello spazio di una catenella vado a lavorare una mezza maglia alta. Sulla maglia alta una mezza maglia alta. Nello spazio di una catenella una mezza maglia alta. Nello spazio di una catenella una mezza maglia alta. E sulla maglia alta una mezza maglia alta. In questo modo termineremo il giro. E poi andremo a lavorare altri due giri mezze maglie alte quindi verranno alternati 3 giri di mezze maglie alte e un giro di una mezza maglia alta una maglia alta una catenella saltando un punto di base e nella maglia successiva una maglia alta questo lo dobbiamo fare fino al termine della lunghezza del nostro cappello vedete io alternato questi due giri l'ho voluto fare semplice perché ho scelto un punto semplice visto che comunque diciamo questa lana già un po particolare di suo però in questo caso sono andata ad utilizzare questo diciamo questa lana qui però magari con un filato sfumato viene ancora sicuramente verrà ancora più bello di come è venuto diciamo così quindi una volta che saremo arrivati alla lunghezza che ci serve cosa facciamo tagliamo il filo eccolo qui e andiamo a prendere lago ok allora ora prendiamo il lago il filo come già vi ho fatto vedere nel cappello perlina che già sta sul mio canale cosa facciamo andiamo a fare la chiusura in questo modo allora ho terminato qui il giro entro nell'asola vedete nell'asola successiva poi rientro nell'asola successiva in questo modo nell'asola successiva vedete vado a fare questo lavoro in questo modo per tutta la circonferenza circonferenza che ci serve scusate per tutta la circonferenza che abbiamo sul lavoro quindi io lavoro in questo modo vedete non so se si riesce a vedere bene il punto con questo filato ecco qua entriamo nel punto successivo in questo modo vedete io mi porto 45 punti sull'uncinetto finché posso poi appena non diciamo non non ci entrano più prendo e tiro il filo in questo modo ecco qua e così faccio fino al termine della circonferenza in questo modo una volta che avremmo terminato il giro cosa facciamo non ci non ci resta altro che tirare in questo modo vedete in questo modo e andarlo a cucire quindi con l'ago l'ago lo facciamo passare diciamo all'interno della lavorazione la cucina la la cittura l'andremo a cucire all'interno del lavoro ok per far rimanere il lavoro più pulito fuori e una volta fatto questo andiamo a dare un paio di punti per chiudere questo piccolo buchetto che abbiamo qui al centro ragazzi una volta che avremo terminato alla fine ci ho messo anche un pomponno questo sarà il risultato del nostro cappellino una volta che l'avremo terminato quindi questo è il risultato del cappellino e lui è il disturbatore del del video quando vi dico che lui sentite dei rumori magari che russa e lui che questo fa da mattina alla sera dorme e russa e niente comunque questo è il risultato del del cappellino io spero che questo tutorial vi sia piaciuto se è così vi ricordo di lasciare un bel pollice in su di iscrivervi al mio canale attivando la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo tutorial ciao